buongiorno bambini oggi come vedete scritto qui scopriremo una nuova parola argomentare argomentare è un verbo questo verbo cosa significa noi argomentiamo ogni volta che diciamo la nostra opinione su qualcosa ma non basta dire la propria opinione io la penso così è giusto questo non basta dobbiamo anche sostenere la nostra opinione e come la sosteniamo la sosteniamo con degli esempi oppure esponendo il ragionamento che ci ha portato a pensare che questa opinione e questa scelta fosse quella giusta ma che vuol dire questo vediamo un po questa scenetta giulia viene a prendere le chiavi della macchina e vai a comprarmi il pane e il latte al supermercato mamma non posso andare al supermercato con la macchina solo per comprare il pane e il latte io preferisco andare a piedi se vado a piedi potrò non fare troppi giri per cercare parcheggio inoltre inquinerò molto meno e soprattutto il pane e il latte non sono molte cose per cui non farò fatica a tornare a casa a piedi per cui io credo che in questo caso sia meglio andare a piedi avete visto cosa ha fatto giulia la mamma gli aveva chiesto di andare al supermercato con la macchina ma la sua opinione era che in questo caso era meglio andarci a piedi e ha sostenuto la sua tesi ha detto che se va a piedi inquinerà meno inoltre non deve comprare molte cose per cui non sarà faticoso tornare a piedi con due due o tre cose non il pane con il latte e poi dovrà anche fare molta meno fatica per trovare parcheggio per cui con questi tre esempi Giulia ha sostenuto la sua ipotesi cioè la sua opinione e ha deciso di andare al supermercato a piedi ecco qua cosa vuol dire argomentare Giulia ha argomentato la sua opinione che era preferisco andare al supermercato a piedi e l'ha sostenuta con degli esempi beh questo si può fare anche per scritto e quando si fa per scritto cioè quando abbiamo una tesi un'opinione e la sosteniamo tramite degli esempi stiamo scrivendo un testo che si chiama testo argomentativo eh sì il testo argomentativo è utilissimo per far capire agli altri quello che ne pensiamo di su tantissimi aspetti che riguardano la nostra vita ma dobbiamo capire da quali parti è formato e come si scrive andiamo a scoprirlo perciò riprendiamo quello che abbiamo visto nel video precedente cioè la definizione di argomentare cosa vuol dire argomentare esporre la propria opinione facendo esempi o spiegando il ragionamento che dà ragione alla sua scelta cioè tu hai un'opinione e la argomenti cioè ci proponi degli esempi o il tuo ragionamento per cui secondo te quello che tu dici è proprio la cosa giusta se questo lo mettiamo per iscritto stiamo scrivendo un testo argomentativo ma come ogni testo anche il testo argomentativo ha le sue parti andiamo a scoprirle proviamo a scrivere un testo argomentativo che abbia come argomento le regole e il cui titolo è proprio le regole sono importanti pensaci un po qual è la sua opinione su questa domanda le regole sono importanti o non sono importanti e se tu decidi che sono importanti quali sono le motivazioni per cui secondo te queste regole sono importanti che esempio faresti proviamo a vedere un testo argomentativo sulle regole prima parte bisogna presentare l'argomento che vuol dire presentare l'argomento esporre l'argomento del tema il nostro tema sono le regole dobbiamo spiegare ciò di cui si parla vediamo come ogni stato ogni città ma anche ogni posto che frequentiamo ha delle norme da seguire il supermercato chiude alle 20 per comprare un oggetto deve utilizzare i soldi e così via tutto quello che facciamo è stato deciso da regole di convivenza che tutti conosciamo vedete in questo caso è stato presentato l'argomento cioè si capisce che si parlerà delle regole andiamo avanti nella seconda parte si deve poi esporre la propria tesi io cosa penso di questo argomento cosa penso del rispetto delle regole penso che per poter stare insieme agli altri le regole siano necessarie a volte pensiamo che sarebbe bellissimo vivere facendo quello che vogliamo senza orari senza leggi ma ci sarebbe una gran confusione riflettete un attimo che mondo sarebbe senza le regole a scuola a casa nei giochi ecco chi scrive questo testo pensa che le regole siano necessarie adesso chi ha esposto la propria la sua opinione deve dirci perché quali sono le sue motivazioni perché pensa che le regole siano importanti infatti ecco la terza parte proporre argomenti a sostegno della tesi cioè fare esempi o esporre ragionamenti che danno ragione alla mia opinione cioè devo fare degli esempi in cui faccio capire che avere delle regole è importante leggiamo un po se a scuola non ci fosse un orario preciso per entrare la campanella non suonerebbe ognuno entrerebbe quando vuole e la lezione non inizierebbe mai oppure se non ci fosse la regola dell'ascoltarsi a vicenda ognuno parlerebbe in ogni momento e non ci sentiremmo neppure provate a pensare una partita di calcio senza la regola del fuori quando la palla esce dal rettangolo i giocatori pur di tenersi la palla finirebbero a giocare sugli spalti e i tifosi rischierebbero di farsi male andiamo avanti questi sono solo alcuni esempi ma le regole sono fondamentali in ogni aspetto della nostra vita anche a casa nostra dobbiamo rispettarle mangiare insieme a tutta la famiglia andare a letto allora stabilita dai genitori per chi non rispetta le regole di solito c'è una punizione più o meno grave se parcheggi la macchina nel divieto risosta il vigile ti fa la molta se disubbidisce i genitori la mamma può metterti in castigo per qualche giorno ritengo che sia usile per ricordarci cosa è giusto e cosa è sbagliato quindi ecco qua questo queste sono le motivazioni per cui è giusto secondo l'autore di questo tema scrivere cioè rispettare le regole c'è ancora un'altra parte dopo che abbiamo esposto tutte le nostre motivazioni a sostegno della nostra opinione della nostra idea dobbiamo concludere come si conclude un testo argomentativo adesso che hai spiegato le tue motivazioni concludi ripetendo la sua opinione cioè alla fine si ribadisce che viste tutte le motivazioni che ho dato quella che dico io è proprio l'opinione giusta insomma sono convinta che in qualunque luogo ci troviamo ci sono alcune regole da ricordare e da mettere in pratica per stare bene con gli altri tutti dobbiamo impegnarci perché solo così costruiremo un mondo di pace e felice cioè cosa dice alla fine dice che in ogni posto ci sono le regole e solo se rispettiamo le regole vivremo bene insieme agli altri per cui è convinta che le regole siano fondamentali proprio come aveva detto all'inizio quindi facciamo un riassunto vediamo quali sono le quattro parti che compongono il testo argomentativo intanto presentare l'argomento poi dobbiamo esporre la nostra tesi la nostra opinione poi dobbiamo proporre argomenti a sostegno della tesi fare esempi e ragionamenti che sostengono dicono che la nostra tesi è quella giusta attenzione a volte troviamo nei testi argomentativi anche un'altra cosa l'antitesi cosa sarà è esattamente il contrario della tesi cioè ci sarà qualcuno che sostiene esattamente il contrario no di quello che diciamo noi a volte però può essere utile utilizzare nel testo le opinioni contrarie proprio per far capire che non sono quelle giuste ma che è la nostra opinione quella quella che in questo caso è giusta per esempio qualcuno avrebbe potuto dire certo però se ognuno si fa le proprie regole è più libero può vivere meglio perché sceglie lui cosa fare certo però se ognuno si fa le proprie regole appunto se la campanella non suonasse l'abbiamo visto nel testo ognuno entrerebbe a scuola quando vuole e la scuola non avrebbe senso di esistere per cui esistono anche le antitesi cioè le opinioni contrarie alla nostra e poi le conclusioni in cui si ribadisce qual è la nostra idea ma dobbiamo fare attenzione ad alcune parole che sono importantissime nel testo argomentativo per dire la propria opinione ci sono tanti modi spesso noi usiamo secondo me ma se andiamo a riguardare nel testo indietro ci sono tantissime altre espressioni ad esempio penso che ritengo che sono convinta che per cui abituiamoci ad usarne di varie non solo secondo me e poi sono molto importanti anche le congiunzioni perché quindi inoltre infatti ritengo che le regole siano importanti perché altrimenti non possiamo stare bene con gli altri per cui anche l'utilizzo delle congiunzioni è molto importante nel testo argomentativo bene adesso non resta che iniziare ad esercitarci grazie grazie grazie